Musica Comandante della Polizia Municipale di Chiavari, il dottor Luigi Bisso, siamo qui per parlare dell'ordinanza che riguarda il trasporto del mercato ortofrutticolo giornaliero chiavarese che lei ha firmato in relazione evidentemente ad alcuni richiami di cittadini che si sono sentiti disturbati al mattino presto. Intanto cosa dice l'ordinanza e da che cosa è stata motivata? Fondamentalmente l'ordinanza è stata motivata dall'esigenza di non disturbare più di tanto il riposo delle persone. Noi prima di farla ci sono stati anche degli inviti verbali e soprattutto c'è stato qualche sopralluogo al mattino presto anche fatto da me personalmente con colleghi durante il quale abbiamo proprio orecchio verificato che nelle ore matutine il rumore si ampia, rimbomba nel carugio e quindi il passaggio di questo tipo di mezzi, soprattutto da vuoti che sobbalzano, crea effettivamente disturbo. Tant'è vero che le proteste di cittadini residenti nel carugio sono tante, sono state tante. Ecco, e riguardano solamente il trasporto di questi pallet? Sì, esatto, perché questi pallet che secondo me nascono per agevolare le operazioni di carico e scarico nei pressi del veicolo, non sono concepiti per un trasporto a centinaia di metri di distanza. Questa forse è la confusione e la ragione, cioè un uso un po' diverso da quello per cui sono costruiti. Tant'è vero che l'ordinanza non li vieta totalmente ma nei pressi di un veicolo li consente. Quindi quello che si vorrebbe è che le merci, se devono arrivare da magazzini abbastanza lontani, arrivassero sul luogo del mercato su gomma senza creare disturbo e poi venissero anche scaricate con i pallet ma limitatamente all'area dove poi si svolgerà il mercato. Noi abbiamo intervistato un operatore del mercato ortofrutticolo di Chiavari. La combinazione nella scelta è caduto quello che ha il magazzino più lontano. Ora gli aspetti economici di un'azienda evidentemente parametrati nel tempo e negli anni hanno delle valutazioni da fare. Lui dice noi non abbiamo mezzi alternativi da poter acquistare per diminuire questo tipo di disturbo e aspettiamo indicazioni per eventualmente fare una scelta. Voi avete valutato mezzi alternativi a questi carrelli? I mezzi alternativi possono essere tutti quelli esistenti sul mercato. Noi ne abbiamo solo impedito l'uso di uno per motivi ben precisi legati al rumore e un po' anche c'è un'altra motivazione che adesso non lo fanno più ma passavano volentieri anche sotto i portici soprattutto quando piovigina quindi il rumore ancora più forte e anche l'ipotesi che si possano danneggiare le graniglie dei porticati quindi anche su questo è stata un po' fatta una valutazione. I mezzi alternativi sono tutti quelli che non sono il pallet che fa rumore quindi possono essere qualsiasi veicolo a motore esistono dei carrelli a mano non credo che portino i bancali quindi ci vorrebbe un trasferimento però mi permetto poi non voglio entrare nel lavoro degli altri ma il tempo del trasferimento delle merci su un carrello idoneo forse è addirittura inferiore a fare perché qui parliamo di quattro passaggi matutini quattro andate e quattro ritorni quindi in quell'ora e mezza, due di andrivieni forse si riesce a mettere merci su qualcosa, su gomma e a portarle e siamo disponibilissimi se ci propongono qualcosa a dare anche una valutazione per iscritto su qualsiasi mezzo alternativo che si possa inventare anche perché i veicoli a braccia sono normati dal codice della strada ma non hanno una regolamentazione particolarmente rigida quindi può essere anche costruito un veicolo a braccia può essere inventato in qualsiasi maniera ecco, posto che anche qui non avete fatto rilevamenti da un punto di vista acustico no, non l'abbiamo fatti anche perché il rilevamento del fonometro ne avevamo fatto uno su... c'era un caso sempre di quiete notturna perché nei centri storici era un bar di quelli automatici e i ragazzi prendevano le bibite a tutte le ore della notte cadevano le bibite, boom, facevano il colpo e in quel caso lì il fonometro non ci aveva aiutato perché su rumori discontinui non ci aiuta più di tanto quindi l'abbiamo fatto andandoci di persona e verificando che comunque quello che i cittadini lamentavano era vero quindi facendo il punto siete disponibili a mediare questa situazione con gli operatori del mercato come vi misurate con loro per valutare eventualmente insieme questa è la richiesta mezzi alternativi quindi considerando che la persona che abbiamo intervistato dice di aver chiesto un appuntamento da oltre due mesi e non è ancora stato ricevuto io ricevo gente tutti i giorni e quello... anche sul mercato ci passo spesso quindi non sono così raggiungibile e il nostro scopo è in questo caso è stato evitare che il conflitto fra questi due interessi legittimi che sono uno di svolgere la propria attività commerciale e quello dei cittadini di dormire in pace non si esasperasse è un po' il nostro lavoro mettersi in mezzo e evitare che si arrivasse alle mani che si arrivasse a diverbi che ci sono stati da una parte e dall'altra male parole eccetera quindi possiamo... qualsiasi soluzione perché non sia rumorosa a Grazie a tutti.